Siamo sotto le 200 euro con la spedizione inclusa. Ciao ragazzi, oggi sono qui perché voglio mostrarvi dei bracciali in argento ma con una manifattura unica in Italia. Perché solitamente questo tipo di manifattura si va ad utilizzare su gioielli in ore diamante. Qui invece ho dei bracciali in argento 925 e zirconi ma curati al minimo dettaglio. E voi direte, sì, beh, vabbè, vediamo, chissà quanto costeranno. Vi dico già, siamo sotto le 200 euro con la spedizione inclusa. Adesso venite qua che ve li faccio vedere bene da vicino. Guardate che lavorazione che hanno, guardate quanto brillano, guardate che roba. Qui parliamo tutti di bracciali al costo di 180 euro spedizione inclusa in tutta Europa. Guardate che roba. Come avete visto sono strepitosi e se vi piacciono e siete interessati all'acquisto scrivetemi in privato che in pochissimi minuti organizziamo tutto e ve li spedisco a casa vostra. Chiaro?